Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio Oggi ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy, ovvero mia versione global Perché per l'appunto oggi è uscito finalmente l'evento di Golbez Golbez è uno di quei personaggi che è stato molto discusso in generale sui forum, su Discord Diciamo su tutte quelle applicazioni dove ovviamente si può avere un confronto E al tempo stesso sono emersi dei risultati che mi hanno un pochino spiazzato Ovviamente avete visto, ormai abbiamo constatato come Golbez effettivamente in Giappone Adesso sia decisamente utilizzabile e abbia fatto assolutamente quel salto in più Che gli serviva assolutamente dall'inizio del gioco Ora, per quanto riguarda invece la versione global Io leggo, cioè ho letto e soprattutto leggo sui vari Discord, forum, eccetera eccetera Come vi stavo dicendo, tantissime argomentazioni che hanno ribaltato completamente la situazione del global Dove praticamente si aveva all'inizio una percentuale superiore al 60, anche al 70% di persone che avrebbero Tralasciando il fatto che un discorso del genere puoi anche farlo Perché comunque una persona può giocare secondo i suoi standard E può giocare anche secondo le sue voglie in generale Nel senso, se a me piace un personaggio lo pullo e ovviamente lo porto al massimo solo perché mi piace quel personaggio E fino a qui non c'è nulla di male Però, se stiamo parlando da un punto di vista, tra virgolette, competitivo Cioè nel senso che tu vuoi avere i personaggi migliori per affrontare gli eventi Per affrontare comunque in generale tutte le sfide Ricordiamoci che siamo anche in prossimità delle Cosmos E diciamo che le Cosmos di per sé hanno una bellissima difficoltà iniziale Quindi non tutti i personaggi possono effettivamente riuscire a completare subito in 4 e 4-8 queste determinate Cosmos Quindi ci vuole anche una strategia ma soprattutto ci vuole una base abbastanza forte di personaggi presenti all'interno del gioco Ora, se volete pullare Golbez potete farlo Cioè nessuno vi sta dicendo non dovete pullare per Golbez Però parlare di pullare Golbez a discapito di Rinoa secondo me è un discorso abbastanza folle Questo perché? Perché Golbez diventerà buono nel Giappone tra un anno Cioè è diventato buono nel Giappone tra un anno E va bene che magari nel Global anticiperanno qualcosa Magari anticiperanno la meccanica degli elementi Anticiperanno magari qualche rework Anticiperanno... va bene Ma si parla minimo di 6 mesi Cioè non possiamo dire che Golbez diventerà effettivamente forte nell'immediato Se avessero annunciato per esempio anche ieri, oggi stesso o magari lo annunceranno dopo Che nel gioco verrà introdotta la stessa meccanica che abbiamo noi in JP Ovvero l'elementale, ovvero il danno elementale superiore al danno specifico di classe Allora sì, vi direi fate piti su Golbez Pullate su Golbez, tutto quello che avete è buonanotte Ma questa cosa non c'è E non si sa effettivamente quando arriverà Perché da noi nel JP è arrivato in un momento in cui Ovviamente Golbez è stato reworkato E ovviamente Golbez aveva necessità di una spinta in più Qui adesso nel Global usciranno tanti di quei personaggi che Golbez solo mangiano Compresa Rinoa ragazzi Cioè se noi dobbiamo parlare di personaggi forti nell'immediato Io vi posso dire Rinoa Rinoa è forte nell'immediato E vi darà una grandissima mano per quanto riguarda le Cosmos Soprattutto per quanto riguarda le Cosmos Quindi volevo fare un po' di chiarezza Perché ripeto, questo è un concetto che comunque ho visto più e più volte Espresso, ripeto, nei Discord, nei forum che seguo personalmente Quindi volevo mettermi io in prima persona, in prima linea Proprio per spiegare qual era il mio punto di vista Se cercate un personaggio forte nell'immediato Dovete pullare Rinoa Se cercate un personaggio che diventerà forte E che quindi possa essere un investimento per il futuro Puntate Golbez Però se riuscirete ad aspettare tutto questo tempo Sta a voi Perché Golbez, ripeto, dopo un po', purtroppo Sarà messo in panchina E non per causa sua Ma a causa del suo moveset con una falla incredibile Ovvero, Golbez è un ibrido Che possiede attacco fisico e attacco magico insieme Sia nella 15 che nella 35 Quindi capiterà più e più volte Che in eventi dove i mostri o i boss Sono resistenti ad una delle due Delle due classi Ovviamente a uno dei due tipi di attacco Il vostro Golbez si ritroverà praticamente Con le gambe tagliate Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che Non avrete la possibilità di utilizzarlo Così come vorreste voi A maggior ragione Se i vostri avversari sono resistenti All'attacco magico Anche la X di Golbez si annulla Quindi dovete fare una scelta Dovete vedere voi che cosa volete Cioè se volete un personaggio da investire sul futuro Per investire sul futuro va bene Perché dici Seven effettivamente anche con la X Plus Non diventa tutto questo granché Quindi io nel banner di Seven Quando prenderà la X Plus Non ci pullerò Va bene Ci può stare Ci può stare Però Non puoi venire a dire che Golbez è migliore di Rinoa Perché questo nell'immediato Non sarà mai possibile Non sarà mai possibile A meno che ripeto Introducano domani La meccanica degli elementi Allora sì Vi dico Fate il PD su Golbez e GG Però fino a questo momento Rinoa diventerà il personaggio più forte del gioco Quindi Io vi consiglio veramente col cuore Ve lo consiglio col cuore Sia per la mia esperienza passata in JP Ma soprattutto per quello che ho visto adesso in JP Golbez ne varrà la pena ragazzi Assolutamente Ma io personalmente vi consiglio dopo Anche perché così Potrete pullare per due X che non avete E non una sola Come è successo a me in molti banner Dove vi ho detto più e più volte Di avere tanti personaggi doppioni Quindi Fate la vostra scelta Detto questo Io Oggi che cosa faccio? Come potete vedere Sto accumulando gemme Purtroppo le master di Ifrit vanno a rilentissimo Dato che nel JP sono usciti parecchi contenuti E quindi sono portato a farli Ma soprattutto Sono in mezzo alla fiera Qui della mia cittadina Quindi Sono tutto il giorno praticamente fuori in fiera E non riesco assolutamente a fare Nessun contenuto Magari la sera riesco Quando Quando vado a letto A pullare i ticker Incredibile Ok ci siamo Finalmente ci siamo Eccoci qua Allora Andiamo subito Nella sezione Allora qui cosa c'è? Vabbè Queste sono le ricompense Ok Se andiamo tra le info Ovviamente abbiamo Il dettaglio Dell'evento di Golbez Quindi come sempre Abbiamo la possibilità di ottenere L'armatura 35 CP E l'arma 15 CP Che come potete vedere qui È quella specie di drago Snowfall Scales Che è praticamente quel draghetto tutto grigio Che è la sua 15 CP E poi la 35 CP Presente Lì come il suo mantello Ovvero Golbez Cape Successivamente Dettagli del banner di Golbez Dove abbiamo la sua arma EX L'Obsidian Scales E poi personaggi sinergici Personaggi sinergici Laguna E Seven Devo ammettere che il suo banner Possiede all'interno personaggi Che anche con EX plus E livello 70 Non diventano così eccezionali Quindi Un pochino Questo è un banner Molto Molto Trappolone Perché L'unico che vale veramente La pena di essere pullato È Golbez Quindi Tutti gli altri Possono anche A mio avviso Essere completamente scartati Perché Non hanno completamente Una funzionalità All'interno del gioco Allora Possediamo 36 Ticket Quindi Direi che Possiamo Cominciare Il video È abbastanza lungo Già di per sé Quindi Andiamo Con I ticket Skippati Non voglio far perdere Troppo tempo Anche perché Già Mi sono dilungato Troppo All'inizio Quindi Magari Adesso È il momento Di Andare più veloce A dire il vero Potrei cercare Anche Powerstone Da questo banner Perché Comunque Abbiamo veramente Pochi ticket Ok Una 15 Di laguna Quindi Buona Powerstone Per me Perché Non ho intenzione Di maxare Assolutamente Non ho intenzione Di maxare Assolutamente Laguna Come potete vedere La percentuale Di bronzini Sempre alta Nel global Una cosa che Veramente Mi Mi affascina Di questo gioco O no Ti prego Gli equipaggiamenti pieni No Sì effettivamente Dovevo farla prima Questa cosa E che purtroppo Non ci penso Mai ragazzi Nel global Sapete che La mia situazione È abbastanza Ridicola Come Come manutenzione Del profilo Del global Sapete benissimo Che io Non Non faccio Manutenzione Quindi Avrei dovuto Farlo prima Allora Continuiamo Altra 15 Di laguna Quindi un'altra Bella powerstone Neanche una orb Neanche un'orb Argentata Per darmi Per darmi L'illusione Ultimi 13 Tickets Tutte orb Azzurre Tutte orb Azzurre Signori C'è Un qualcosa Di ridicolo La 35 Di golbez Già Iniziamo Almeno Già È qualcosa Di utile Già è qualcosa Di utile Non male 35 Di golbez Non male Non ci credo Non ci credo Perfetto Ragazzi Non potevo Desiderare Di più Trovare Tutto Dai ticket Anche Nel global È un qualcosa Di incredibile Ragazzi Veramente Non avevo Non potevo Non potevo Desiderare Di meglio Non potevo Desiderare Di meglio Golbez Tutto Dai ticket Perfetto 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 Ragazzi Perfetto Altra Powerstone Buono Perfetto Perfetto A questo punto Almeno Una multicina Sono costretto A farla Perché Perché sono Letteralmente Costretto a farla A dire il vero Io ho ancora Molto da formare Nel gioco Lo sapete Che devo fare Lost chapter Devo fare I capitoli Devo fare tutto Quindi Veramente Una quantità Di gemme Da formare Incredibile Sì Mi faccio Una Anche due Multi Probabilmente Per tentare Comunque Di portare Sulle armi Direttamente Senza Powerstone Perché non ne ho Tantissime Quindi vorrei Risparmiare Il più possibile A questo punto Perché Golbez Me lo vado a maxare A questo punto Golbez Me lo vado a maxare E poi Le restanti gemme Che farmerò E che ovviamente Pullerò Saranno solo Su Rinoa Ottimo 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 Così No Me ne manca una Me ne manca una Per maxare Già la 15 Senza powerstone Ed è tanta roba Quindi Facciamocene un'altra Bella L'orb Argentata E bella Facciamocene un'altra Perché se dovessi Prendere un'altra 35 O addirittura Un'altra X Davvero Davvero buono Come risultato Non potrei chiedere Di meglio 35 Non potrei chiedere Di meglio Troppo per risparmiare Le powerstone Che mi servono Assolutamente Va bene Va bene Non mi interessa Queste sono Sono altre powerstone Ok ok Ci stanno Ci stanno Detto questo Ragazzi Sono euforico Perché Trovare Golbez Con i ticket Mi è andata Veramente di lusso Quindi Veramente tanta roba Spero che anche voi Siete stati così fortunati Io vi ringrazio Al solito Per la vostra fortuna Che mi date Inconsciamente E E per il resto Tenete a mente Le parole che vi ho detto E quindi Grazie ancora Per essere stati con me E alla prossima Grazie a tutti